Siamo a Trucazzano, siamo con Camilla Barlassina, lei è la mamma di Arianna ed è la tipica ippomamma. Cosa vuol dire avere una figlia che monta a cavallo? Avere una figlia che monta a cavallo è un grosso impegno, un grosso sacrificio, però è una gioia immensa, perché tutti i sacrifici che noi facciamo vengono ricompensati poi spesso in questo periodo, se Dio vuole, dalle vittorie, dalle gioie che la bambina ci dà. Un grande impegno naturalmente. Un grande impegno anche perché noi lavoriamo tutti, perciò è un impegno non solo economico, è un impegno anche portarla in maneggio quasi tutti i giorni. Io sono aiutata dai nonni della bambina, se Dio vuole, se no non riuscirei. È un impegno però merita. È un impegno per lei, per Arianna, anche far coincidere anche la scuola. Assolutamente. Lei fa il primo anno di liceo, studia una brava bambina anche a scuola, perciò non ci sono problemi, però ovviamente deve studiare tanto fino alla sera tardi per poter conciliare le due cose, perché a volte stai in maneggio fino a tardi, quindi dobbiamo organizzarci in qualche modo. Non parliamo di soldi, vero? Assolutamente no. Tasto da non toccare. Grazie. Grazie mille. Arrivederci.